Vi è mai capitato di prendere in mano una fotocamera un po' vecchiotta che magari non utilizzate da un po' e scoprire che a ogni accensione la fotocamera vi chiede di rimettere la data? Ebbene, oggi andiamo a vedere a che cosa è dovuto questo spiacevole inconveniente e come porvi rimedio, motivo per cui vi consiglio di guardare questo contenuto fino alla fine. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come sapete mi occupo di fotografia in particolare per le aziende, ma insomma cerco un po' di spaziare e ogni tanto vi porto dei contenuti anche su vostro suggerimento. In particolare in un commento di un po' di tempo fa mi veniva fatta questa domanda al che ho dovuto indagare perché francamente io questa cosa non la sapevo, io sono un utilizzatore quindi non è che so qualsiasi cosa sulle macchine fotografiche, però come vedete pian piano imparo. Prima di cominciare però voglio invitare tutti quelli che ancora non sono iscritti al mio canale a farlo subito perché altrimenti dopo ve lo dimenticate. Ragazzi ricordatevi se volete evitare malanni di questo tipo alla vostra strumentazione, un solo click è quello che fa per voi. In particolare qualcuno di voi nei commenti mi ha messo la pulce nell'orecchio sull'esistenza di una cosa denominata batteria tampone. Si tratta sostanzialmente di una piccola batteria supplementare, quindi non la batteria della nostra fotocamera ma un'altra batteria più piccola che è situata chissà dove all'interno del corpo macchina e che ogni tanto deve essere sostituita. Ora fino a quel punto io non mi ero mai interessato veramente di questo tema perché le mie macchine funzionavano tutte perfettamente, quindi avevo le batterie perfettamente cariche e operative. Però guarda caso, poco tempo dopo quel commento è successo che una delle mie macchine ha presentato proprio quel tipo di problema. Quindi ogni volta che io andavo ad accenderla, dopo che avevo rimosso la batteria per caricarla, quando andavo a riaccenderla, la macchina mi chiedeva di rimettere la data nuovamente. Io avrei potuto anche fregarmene perché potevo anche lasciarla così obiettivamente, però è seccante perché comunque le mie fotografie sono immagazzinate per data e io vado a fare delle ricerche per data e soprattutto se sto facendo delle cose magari editoriali mi serve che i metadati siano corretti e quindi che la data di scatto sia corretta così come tutti gli altri dati. Per cui era decisamente seccante avere questa cosa sballata. Quindi sono andato a informarmi e ho scoperto che questa fotocamera, come praticamente tutte le fotocamere in nostro possesso, hanno un alloggiamento per la batteria tampone. La batteria tampone, ve la faccio vedere, praticamente è questa. È una di quelle piccole batterie che vanno bene per gli orologi al quarzo, vanno bene per certi dispositivi, tra cui per esempio il mio calibro elettrico utilizza una batteria di questo tipo, ma non è esattamente la stessa. Infatti noi dobbiamo stare molto attenti che la dicitura riportata sia CR1616 3V. Questa è la dicitura corretta per la nostra fotocamera. È riportato anche all'interno, quindi ci sono poche possibilità di errore. Ho avuto modo di vedere che esistono tante batterie di questo tipo. Esiste per esempio la CR1620 da 3V. Non è esattamente la stessa, quindi magari funziona lo stesso, ma personalmente ho preferito riprendere esattamente la stessa batteria, così sono sicuro che funzionerà esattamente come prima. Molto bene, ma io so benissimo che tutti quanti siete curiosi di vedere dov'è la batteria tampone all'interno della nostra fotocamera, perché non è così semplice. Ora, andiamo a vedere dove si trova e come si sostituisce. Come potete vedere da queste immagini, intanto noterete il disastro che c'era sul mio tavolo perché ho tirato fuori la mia strumentazione da piccolo orologiaio per fare questa operazione perché mi servivano cacciaviti e pinzette. Sono andato a rimuovere le protezioni sul lato della mia fotocamera e come potete vedere qui c'è un alloggiamento con anche la scritta open, quindi più facile di così direte voi. Certo, potevo arrivarci anche da solo. Invece mi sono andato a studiare la vicenda e ho scoperto che basta svitare questa piccola vitina che io ho già tolto. Dopodiché si può andare ad aprire l'alloggiamento. All'interno dell'alloggiamento ovviamente ho trovato una batteria vecchia, già utilizzata. Questa cosa è importante anche perché nel momento in cui noi lasciamo la batteria per tanto tempo dentro nella macchina siamo sempre esposti al rischio che la batteria rilasci acido. Quindi anche se riponiamo la fotocamera e non la usiamo per lunghi periodi di tempo, sarebbe comunque bene toglierla questa batteria piuttosto che lasciarla dentro a tempo indefinito perché questa qui era dentro da... Io credo che fosse dentro da dieci anni, ragazzi. Quindi non è che esplode dopo sei mesi. Era dentro da dieci anni. Però io l'ho tolta appena ho visto che si era scaricata. Se me ne fossi dimenticato e avessi lasciato la macchina lì per altri due anni magari succedeva l'irreparabile. A quel punto io non vi dico che la macchina avrebbe smesso di funzionare perché è un alloggiamento a parte, però sicuramente non sarebbe più stato possibile inserire una nuova batteria. Quindi avremmo dovuto a ogni nuova accensione andare a immettere nuovamente la data. E questo sarebbe stato estremamente seccante. Torniamo a noi. Il nostro alloggiamento della batteria tampone, come vedete, è una componente di plastica abbastanza fragile. Quindi andiamoci con i guanti di velluto, mi raccomando, perché se la rompiamo sono casini. Ovviamente quando la togliamo troviamo già una batteria inserita. Quindi andiamo a toglierla. Entra semplicemente a pressione e esce esattamente allo stesso modo. Quindi la tiriamo fuori e esce perfettamente da sola. Andiamo a mettere dentro la nuova batteria. Come potete vedere è una CR1616 da 3V. esattamente come quella che c'era dentro prima e esattamente come ci indica la dicitura sopra la parte in plastica. Quindi andiamo a inserire la nuova batteria. Dopodiché possiamo andare a reinserire il nostro alloggiamento all'interno della fotocamera. A questo punto ovviamente andiamo con tutte le cautele del caso a riavvitare la nostra piccola vite che nel frattempo non dobbiamo aver perso. ed ecco che la nostra fotocamera dovrebbe essere pronta come nuova a tornare a lavorare per noi come se nulla fosse successo con una nuova batteria che ci durerà presumibilmente anni e anni e anni perché quella è una batteria che in teoria serve proprio solamente a tenere in memoria certi dati nel momento in cui viene tolta la batteria. Quindi quando io tolgo la batteria per ricaricare la fotocamera o per fare qualsiasi altra cosa la memoria interna della fotocamera è come se venisse un po' cancellata perde cognizione di dove si trova invece con la batteria tampone carica e operativa riusciamo a mantenere queste informazioni anche nel momento in cui andiamo a togliere la batteria anche per dei periodi di tempo abbastanza lunghi. Ricordiamoci che a ogni accensione facciamo caso a questa cosa se quando accendiamo la fotocamera ci viene chiesto di reintrodurre la data probabilmente questa batteria si è scaricata e quindi è il momento di andare a sostituirla. Ovviamente non sto neanche a dirvelo questa è una componente da supermercato io sono andato al supermercato sotto casa e ce l'avevano bisogna solo fare attenzione a due cose la data di scadenza perché sopra c'è indicato best before 2027 quindi dobbiamo utilizzarla preferibilmente prima di febbraio 2027 io l'ho messa subito quindi non è un grosso problema ne ho presa una di scorta perché non si sa mai certo se vado oltre il 2027 probabilmente avrò buttato 89 centesimi però insomma poco male intanto ne ho una di scorta a caso mai se ne scaricasse un'altra diciamo che è un'indicazione di massima meglio usarla prima del 2027 se la mettiamo a 2027 inoltrato secondo me non succede niente tutt'al più durerà un pochettino di meno certo ho evitato di comprare quelle che avevano scritto meglio usare prima del 2024 perché magari non le uso quest'anno e andare a prendere una roba che è già scaduta di partenza o quasi diciamo che non mi fa proprio impazzire come idea bene amici a questo punto vi lascio come sempre spazio nei commenti fatemi sapere se anche voi utilizzate vecchie signore come questa se anche a voi danno tantissima soddisfazione se anche voi volete continuare a tenerle in piena efficienza ovviamente il consiglio migliore che vi posso dare è quello di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto perché arriveranno presto altri consigli come questo o spero anche più utili vi ricordo anche di lasciare un like a questo video perché voi non ve ne accorgete ma date una grossa mano al canale signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io e la mia 5D Mark II vi diamo appuntamento al prossimo video e io e il mio canale Grazie a tutti.